Ciao amici di Vedi in Vino e benvenuti alla degustazione di questo mese. Insieme a Filippo e a Cristian, i due sommelier, ci apprestiamo a degustare un metodo classico di antinori. Filippo, prego. Ciao a tutti ragazzi, oggi assaggiamo Marchesi Antinori, quindi una delle aziende più famose che abbiamo in Italia e poi c'è anche questo metodo classico, fatto con un bechardone e pinot nero in parti uguali, 12 gradi, quindi molto molto elegante e natura, quindi non dosato, da 0 a 3 grammi di residuo zuccherino, quindi un vino decisamente secco ed alberitivo. E direi un vino dal colore giallo dorato, cristallino, veramente stupendo, con tantissime bolle, direi anche fini e persistenti. All'occhio iniziamo molto bene. Naso. Nel naso abbiamo le persone del lieto, soprattutto la lunga finamente in legno e la frutta matura, le ricardonelle, gli aglumi, esatto. Molto complesso. Anche al naso si nota qualcosa che ha a che fare con un salato, un po' di salato, anche se non è un termine, diciamo, perfettamente da naso, se no ricorda il minerale. Direi che è assolutamente... Molto secco, l'abbiamo proprio questa secchezza. Si, in equilibrio. Si nota la sua buona percentuale di pinot, giusto? Assolutamente si, perché è abbastanza, è abbastanza complesso. Si, la si sente inquadre. I pinot neri vengono molto bene secchi. Si. Quindi è anche un'ottima scelta quella di Atteniori, di usare del pinot nero per fare un Ambrut e Natur. Grande maestro. Questi, esatto. Cosa ci fa a freddo in attitudine? Intanto, si, 6-8 gradi. Assolutamente. E poi, te cosa abbineresti a questo vino? Ma, allora, intanto, vedremo poi il nostro chef, Vale Mazzola, cosa ci consiglia. Perfetto. Non lo so, per evitare il solito pesce, diciamo così, cosa suggerireste? Beh, una bella zuppa. Una bella zippetta, eh. Bello suggerimento. Un po' leggera, magari qualcosa con le verdure. Una zuppa vegetariana. Qualcosa la richiamo, però un... o... qualcosina in più. Con una perla di... di fuo gras. Ma, che meraviglia. Oh, grazie. Quindi, frut Antinori e zippetta di Lemuni. Grazie. Ricordatevi. Ricordatevi. Assolutamente. Con soli 19,90 per diventare sommelier. Made in vino.com. Divertitevi con i nostri abbinamenti, con i nostri mini. Ciao. Salute, ciao. Salute, ciao.